Stefano Allasia, lei ha detto che i deputati piemontesi del Partito Democratico sono dei traditori, perché? Perché nella discussione dello Sblocca Italia, dove si è cercato come parlamentari piemontesi di tutte le correnti e tutti i partiti fare lobby e cercare di portare a compimento una serie di infrastrutture come il compimento della linea metropolitana 1, il progetto della linea 2, Tangenziale Est e tante altre infrastrutture in Piemonte. Alla prova dei fatti poi si è visto che il PD costantemente ha votato contro le nostre proposte emendative migliorative del testo, un testo che purtroppo non ha coperture finanziarie e non vedrà successivamente il compimento delle opere. Per di più, nell'ultima fase del provvedimento, nella proposta dell'ordine del giorno, perché richiedere ulteriormente la progettazione della linea metropolitana 2 di Torino, il compimento della metropolitana 1 e la tangenziale Est, il PD ha votato contro l'ordine del giorno da me proposto.